Dallo studio distribuito di Gump Media Production Notizie di tecnologia Questo è Digitalia Settimana del 15 aprile 2024 Come aggiornare il software di una banca B per cambia padrone Il tremendo successo di AI PIN Ma anche gaming, pirateria, Pink Floyd Questa è molto altra e scaletta per un'ora e mezza Dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana Dalle Mi Studio Il Guria 1 di Sanremo qui è Franco Solerio Dallo studio di Milano Isola Michele Di Maio E dallo studio di Rilassato di Milano Città Studi Francesco Facconi Pronti, belli, pronti, tight, via Pam, 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 subito È un po' che manco da queste parti Di solito quando faccio queste pause Poi a ringranare, a far funzionare Intanto c'è tutte le luci nei posti sbagliati Ma poi le vado ad aggiustare Vi sono mancato Vi sono mancato, è vero che mi sono mancato È vero che vi sono mancato Tantissimi sei mancato Non mi preoccupare Scusa, raccontaci di quella bellissima maglietta che c'hai Cosa c'è, una mela microfono Ma non so perché ormai Michele cambia le inquadrature sui video di Youtube Finisce che mi inquadra solo la lente di sinistra degli occhiali È una maglietta vintage È l'unica maglietta Credo che abbiano fatto gli amici I nostri colleghi di Easy Apple Credo Sette, sei, sette, otto anni fa E come mai l'hai tirata fuori oggi? La uso molto spesso Devo dire Quando voglio Maglietta nera in casa Tranquil Tante più magliette di loro In senso, quindi siamo Ce n'ho due Ce n'ho due Di queste magliette Sono le uniche due magliette che ho Scherzo Salutiamo Luca e Fede I nostri colleghi Allora Ascoltate la vostra puntata Siete stati abbastanza bravi Devo dire Grazie Devo dire Che iniziate Anzi Farò più spesso vacanze Grazie al fatto che siete diventati Francesco, ringrazio Così, così, così Allora Vedo Dalle notizie Che abbiamo messo in fila Per questa settimana Che Francesco Non vede l'ora Di raccontarci Come si fa L'upgrade Del sistema operativo Di una banca Non vedo l'ora No Più che altro È una di quelle notizie Che si leggono Magari sui media italiani Ma Quando inizia a vedere Che arrivano un po' Tutti i siti stranieri Americani Che citano Guardate gli italiani Cosa fanno È sempre curioso E quindi vale la pena Portarlo all'attenzione In particolare Un'analisi interessante Del pragmatic engineer Quindi proprio Arriviamo sul tecnico Che ha segnalato Questa notizia Dove dal 6 di aprile All'11 Quindi per una intera settimana Che è un periodo Non piccolissimo I sistemi informativi Di bancasella O perlomeno Una buona serie di quelli Non hanno funzionato Quindi il sistema Di bancasella Di hype Che è il sistema Di pagamenti online All'inizio Non si sapeva cosa C'è stato un down Di un paio di giorni Che poi si è prolungato Non è stato impossibile Accedere ai sistemi online Quindi poter fare bonifici A un certo punto Per un paio di giorni Addirittura i post Non funzionavano Quindi anche le trastazioni Più semplici Apparentemente Per Viene descritto Un aggiornamento Del firmware Del sistema operativo Per Ok Per via di Oracle Quindi il database Quindi Il firmware del database Il firmware del database Questo è quello Che è uscito un po' Dalle varie Newsroom Di bancasella C'è una buona supercazzo Ha detta così La domanda Che il buon Pragmatic engineer Pone È strano Che non abbiano Ripristinato al volo I backup Le strategie alternative Per cui Non lo so Che cosa è successo Non si sa Però Fatto sta Che Da quello che si legge Di questi report L'architettura È abbastanza complessa Perché si appoggia Su software E su server esterni Alcuni dei quali Creati da degli spin off Della stessa bancasella E quindi Non si è capito Per qualche motivo Probabilmente Non era possibile Fare in blocco Il restore Di un backup precedente Perché Esatto Diciamo che Era un euro Asperatore Nel senso che Il dubbio Che molti commentatori Hanno avuto Come una banca Così grossa Una banca comunque Che ha tantissimo Business online Faccia uso Non di un Laboratorio interno Di sviluppo Di gestione Di tutti i sistemi Informativi Che apparentemente Dovrebbero essere Parte del loro Cosmire Core business Ma di fornitori esterni La realtà poi interna Chiaramente difficile Da conoscere Il fatto sta Che è saltato fuori Il nome di un fornitore Che è stato Ingaggiato Per ripristinare Probabilmente Era parte Dello sviluppo Dei sistemi Questo Non lo so Probabilmente Rappresenta un po' Un tipo di idea Di certi servizi Che essendo secondari Possono essere delegati Però il momento in cui Una banca sta offline Per sette giorni Probabilmente Varrebbe Una valutazione Di quello che sono Gli obiettivi Di L'organizzazione Del business Ecco da questo punto di vista Io però la girerei Da un'altra La girerei un po' Al contrario Questa notizia Noi facciamo È stata super 358 giorni All'anno Non solo Sì certo Più o meno così Ma andrei oltre Cioè Noi facciamo Parliamo di tecnologia Da 15 anni È la prima volta In 15 anni Che capita Un offline Di una banca Del genere Che mi ricordi Questo può avere due Può avere due origini Uno è che in realtà Sono molto ben organizzati Ed è proprio una cosa Ultra eccezionale Un problema del genere Il secondo è che fanno L'upgrade del sistema operativo Ogni 15 anni E questo sarebbe un po' meno Che è anche una delle cose Che era una delle ipotesi Che ho letto In questi post mortem Che diceva Che diceva appunto Che avevano lasciato Accumulare Troppe Release Troppi aggiornamenti E quando Come sappiamo bene Tutti noi Quando invece di fare L'upgrade Dal sistema 5 Al sistema 6 Devi fare l'upgrade Dal sistema 2 Al sistema 15 C'è sicuramente Qualche cosa Che non funziona E che si Impatti La 2 è a Sonoma La 2 è a Sonoma Mi piace Esatto Sì Ma può essere Tutte e due Io spero che In realtà Tengano un po' più Aggiornato Da questo punto di vista E comunque 7 giorni Ecco 7 giorni Su 15 anni Questo lo chiedo Un po' a tutti voi Com'è come livello Di servizio E' buono O no Ma sì E' una banca E' una banca A sta cosa Dei soldi Date troppa importanza Ragazzi No ma Quindi non servono a niente Ma stavo pensando Da un altro punto di vista Spesso si legge Un servizio Uptime Di 99.999% 7 giorni Comunque E' un Quasi un Uno e mezzo Un zero Uno e mezzo Per cento Non si raggiunge Il 99 Su 10 anni In realtà Non ho capito bene Non è andato Completamente Tutto offline Qualcosa era solo Rallentato Eccetera Ma mi chiedo Ecco se Sei in una situazione In cui Non lo so Fai un Fai un compromesso Di una casa Devi fare il versamento Entro quel giorno Lì Se no paghi la penale E il contratto È nullo Eccetera E quel giorno Lì la banca Non funziona Boh Probabilmente Chiami la banca Parli con un operatore O chiami col tuo Reference Banker Come si chiama E magari internamente Dai suoi sistemi Cioè va direttamente Sul registro Carta e penna E fa partire lui Il bonifico Ma Non lo so Ne dicono Prendi la mazzetta Dei giornali La porti al notaio E dici non è colpa mia C'è scritto su tutti i giornali Che veramente Era uscito Ma non credo Che valga Come 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 Non è colpa mia Non credo Che sia considerata Nel diritto civile Nel diritto commerciale Come una Come un motivo Di far saltare Un contratto Eccetera E mi sembra Dipende da cosa c'è scritto Nell'eula della banca Mi sembra Non l'ho fatto apposta No però Ecco insomma Un qualcosa Quella è veramente Una causa di forza maggiore Ecco La banca Che sta offline Per sette giorni Non è necessariamente Detto così Dipende Da quali sono le ragioni Perché se poi Si viene provato Che un problema Che la banca Non faceva manutenzione Al sistema E poi il sistema Si è scassato Ecco Allora a quel punto Non è più forza maggiore Non è che È arrivato un fulmine Sulla banca E quindi E quindi fai causa Alla banca Fai pagare la piena Alla banca Ah no Questo lo devi chiedere All'avvocato La banca Si rivale su Oracle Oracle Si rivale sul Vabbè Dalla banca A Biper Salto quantico Carpiato Con quattro caprioli Che è anche una banca Ma si scrive Biper Infatti all'inizio Io pensavo Non capivo il collegamento Che ha fatto Biper Non era banca Il collegamento Se vogliamo farlo Meno carpiato E che qua Effettivamente C'è stato il notaio Che ha fatto passare Un po' di soldini Da un conto Ha fatto il bonifico Con la barra di progresso Perché è molto grosso Ci vuole un po' di tempo Perché passi Quindi sa come nei film Sappiamo che Matt Wullenberg E Automatic Non usano banca Sella Ecco Questo vuolete dire Nel caso qualcuno Se lo stesse domandando Allora Ve lo ricordate Biper Biper è quel sistema Di messaggistica Che doveva permettere Di utilizzare Di parlare Con la spunta blu Con il cartone blu Anche quello Con gli amici Sì Beh Il materiale Era nata la ribalta Come di Michele Come app Omnicomprensiva Di tutti Però ragazzi La proposta Era Ragazzi avete Android Siete stufi Che gli amici Con iPhone Vi vedono Col bollino verde Vi bollizzano Eccetera Vi odiano Perché questo succede Tanto negli Stati Uniti Dove veramente I whatsappisti Sono una minoranza Gli androidiani Sono una minoranza C'è gente che ha Il mega gruppo Di tutti gli amici Eccetera Di tutti i compagni Di scuola O delle mamme Della scuola C'hanno il gruppo Su iMessage Siccome ce n'è una Che non ha Iphone E che disabilita Per tutto il gruppo Una serie di funzionalità Che esistono Solo se tutti hanno cose Per cui c'è proprio Una sorta di odio sociale E biper La proposizione Di valore Era quella Vi risolviamo Questo problema Da oggi Con Android Potete parlare Con iMessage Nativamente Con la cosa blu Oggi per due settimane Dato che poi Team Cook Hanno fatto un po' Hanno fatto un po' Guardie Landre Con Team 2 Cook Io vi disabilito Noi facciamo Bypassiamo Io ti ridisabilito Noi vi bypassiamo Ah sì Allora io ti faccio cause Allora noi chiudiamo In realtà Non hanno chiuso Del tutto Cioè hanno ritirato L'app Ma la notizia La settimana È che L'ha comprata Automatic Che è Automatic Automatic È l'azienda Che Ha comprato Ha sviluppato Ha sviluppato Fin dall'inizio Wordpress Rilacciato in open source E Il servizio Wordpress.com Infatti Automatic È in realtà È l'owner Di Wordpress.com Che è la versione Ospitata E online Di Wordpress Ha comprato Tumblr Un po' di anni fa In realtà Ha comprato Varie Appendie Pocketcast A un certo punto Che ha fatto un po' Di passaggi di consegne Eh sì Si vuole Text Questa è una cosa strana Text Che è un'altra applicazione Probabilmente era L'altra applicazione Concorrente È aggiornata Perché di vecchie Ce ne erano parecchie A Beeper Quindi un'applicazione Anche lì Omnicomprensiva Di tutti i sistemi Di chat Sì che poi Beeper È mossa Dietro Da Credo Protocolli Abbastanza Open source Dietro ci sono Una serie di bridge Protocollo Protocollo Matrix Che Credo Un po' Tutti Si possono Andare a Self-hostare Sul proprio Raspberry Pi Ovviamente Beeper Lo impacchetta Con un'applicazione Dedicata In modo che Tutto questo Sia facile Per l'utente finale Poi Non so a voi Se vi è capitato Anche di utilizzarla Al di fuori Del discorso Di iMessage Sì è vero È facile Non è Particolarmente Affidabile Su alcuni Protocolli Perché Come fa Guardie e ladri Con Tim Cook Lo fa un po' Anche con Zuckerberg Che In questo momento Non ci tiene Che voi non usiate Facebook Messenger E Instagram Messenger Direttamente Con l'applicazione Quindi Non è Proprio Così Immediata Però ecco Automatic Con tutte queste Acquisizioni Beeper Quella di oggi Di Beeper Si vuole un po' Impostare Come un Fornitore di Tecnologie A 360 gradi A 360 gradi Nell'ambito Della comunicazione Sì Fornitore di Tecnologie Di comunicazione A 360 gradi Corretto Corretto C'è la parte audio C'è la parte Testuale Di blog C'è la parte Adesso Di messaggistica Se riesce A mettere poi Insieme Tutte e tre Le cose Può essere Ok oggi Wordpress Non è più Solo blog Ma Wordpress È Un altro Degli acquisti Automatici È stato WooCommerce Plugin Nato inizialmente Come plugin Esterno Commerciale Poi Inglobato Di fatto Ora A parte Dell'offerta È uno Dei principali Sistemi Con cui Costruire Un e-commerce Per l'appunto Basato su Wordpress Estremamente Funzionale Sì Perché poi C'è la Shopify Dall'altro lato E quindi Ha dovuto fare così Certo Vediamo È interessante No È sempre un po' In sordina Questi movimenti Non è seguito Da vicino Dalla stampa Non fa i numeri Non fa il clamore Dei big Non fa il clamore Di meta Di google Eccetera Però si muove In maniera Devo dire Decisamente Sveglia Il ragazzo E insomma Logic Wordpress È automatico In generale È veramente Una potenza È un bel pezzo Di internet È decisamente Francesco Ci hai messo Un update Sulla Fair XZ XZ Sì Sono È girato Su internet XZ Vi ricordate Da appunto Da scorsa Che era questa Backdoor Inserita All'interno Di una libreria Generica Riascoltatevi Se volete sapere Tutti i dettagli La puntata Da scorsa È girato Il commit Che per i meno Addetti ai lavori È quando un programmatore Modifica Parte del codice In particolare Il vecchio Programmatore Quindi l'asse Collin Ha modificato Il file Degli autori Togliendo Ogni Ogni traccia Del Di G A tan Questo Fantomatico Personaggio O team Che aveva inserito La backdoor Promuovendolo Di fatto Al rango Di autore speciale Special author Dicendo a G A tan È stato Il maintainer Fra il 2020 E il 2024 Ha inserito Una backdoor E poi è sparito Quindi Sì Il 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 Sottotitolo Del commit È l'altro Maintainer È sparito Di colpo Se è data La macchia Insieme a quel commit Ne è stato fatto Un altro Che ripristina La libreria La versione precedente Di fatto Corregge Tutto il casino Di questi giorni Il casino Di cui avete parlato Bene La settimana scorsa Benissimo Arrivano report Sulla scelta Degli utenti In materia browser Da quando Il DMA Ha obbligato Apple A implementare Su iOS Il banner Di scelta Di selezione Del browser Predefinito E le notizie Sono interessanti Sì Sono usciti Stanno uscendo Tanti articoli Tutti insieme Quindi probabilmente C'è stata una Campagna Di qualche Di qualche Browser O di agenzia Che ha fatto Gira la notizia Effettivamente Pare che Il Il sistema Di ballotta Che viene mostrato La scelta Di ballotta Di ballotta Facciamo uno speciale Sulla ballotta Perché è sorteggiato Ma è italiano Ballotta Ma sicuramente La scelta Completamente casuale Che viene Come ordine Di possibilità Che viene data Ai utilizzatori Di Safari Prima di poter Scegliere Prima del primo Utilizzo Ha fatto sì Che gli altri Browser Stiano iniziando A guadagnare terreno E soprattutto Che Safari Lo stia perdendo Perché il fatto Che ci sono stati Download Di altri browser Di fatto Non ne garantisce Un'adozione Il fatto che però Safari abbia perso Utilizzo su internet Mostra che evidentemente Gli altri browser Funzionano E piacciono A chi l'ha scelto E questo effettivamente Dimostrerebbe Secondo Questi articolisti La maggioranza americani Questa è una cosa particolare Sapevo che Franco Era contento Di essere tornato Con la parola Articolista Pronta Ma in realtà C'è un po' Di Da andare a costruire I link Si dovrebbe Almeno La fonte Che ho individuato Io È un articolo Della Reuters E il quale A sua volta Cita Un report Di Alle Aloha Browser Che è Una specie Di browser O qualcosa Del genere Di Cipro Di Cipro Un browser Per Un'applicazione Per telefoni Ok Comunque Articoli Cioè Comunicati stampa Erano usciti Cioè da Brave Da Mozilla E ovviamente Mostrando come Questo Questi numeri Erano in aumento Mi è piaciuto Però in coda Il commento Che è uscito Da Dan Morrell Su Six Colors Che dice Volete che Apple cambi Bisogna fare Le regolazioni I regolamenti Le regolazioni Stanno Vanno di pari Passo Con la ballotta Oggi c'è Il traduttore Un po' La ballotta A proposito Una castagna Bollita Con la buccia Toscana È un proiettile A forma sferica Usato con armi Di artiglieria antiche Oppure Una pallina Utilizzata Per revotazioni Nel medioevo Quello che tu Quello che tu È un proiettile A cui stavo pensando Effettivamente Francesco Uomo medievale Sì Lo vedo Con il gonnellino A righe Che salta Io vedevo più Come frate francescano Io me lo vedevo In sella al cavallo Con la spada lunga Hai presente Defender of the crown Che fanno La picca Credo che Quanti abbiamo fatto A tempo Ah no Era giusto Perché Al momento Tutti i browser Disponibili E sceglibili Sono Safari Con delle funzionalità Attorno Del cromo diverso Delle funzionalità Di bookmarking Di navigazione Diverse Ma il rendering È quello di Safari Il motore javascript È quello di Safari Arriveranno Vediamo Quando arriveranno Le alternative Almeno in Europa Anche Anche la ballotta Francesco Credo che sia Solo in Europa No Non solo Il browser E cose Ah pensavo La ballotta Proprio la castagna No la ballotta Su iOS È solo È solo Penso di sì Ma effettivamente Mi hai fatto venire il dubbio Visto che comunque Si parla di Penso proprio Metta a prova Cercare su TechMeme La ballotta The ballot Comunque è vero Certo Vuoi che Apple Cambi I regolamenti Le leggi funzionano Il problema è fare le leggi In tanti paesi È molto difficile Farle È ancora più difficile Fare delle leggi Che funzionino Perché Quella Quelle in causa In questo momento Stanno avendo Un effetto Se l'effetto Sarà quello desiderato Lo capiremo Nel giro di un annetto Due Per il momento Tanta confusione Tanta resistenza E Più 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 Come dire Ostacoli Per gli sviluppatori Che altro Perché la Malevolent compliance Di Apple Direi che ha fatto Un capitolo di storia Vero Vero anche che però Alcune delle limitazioni storiche Mentre c'è questo Questa serie di tasse Balselli Mi piace Balselli Che vengono dati Agli sviluppatori Che cercano di fare Il loro store Contemporaneamente Sullo store principale Sono state rese disponibili Una serie di cose in più Applicazioni che gestiscono Cataloghi di videogiochi Tipo Dovrebbe arrivare Xbox Game Pass In un certo senso Gli emulatori di retro gaming E poi anche lì Non probabilmente Quelli completamente aperti Ma Applicazioni E' vero E' vero E' vero E' vero E' vero Cose che hanno detto Mai queste cose Sono stati Carriveranno anche Le cosine No ma non c'è dubbio Non c'è dubbio Che Non c'è dubbio Che se Apple Si comporta in questa maniera Con le leggi che ci sono Se vuoi che cambi Devi cambiare le leggi Inutile che Però insomma Di nuovo In un mondo ideale Sarebbe stato meglio Sedersi a un tavolo Dire come la volete voi Come la vogliamo noi Le leggi le cambieremmo così Ma allora noi faremmo cosa E venirsi incontro Ma qui è muro contro muro E evidentemente Non ha funzionato così Le cose stanno Stanno funzionando benissimo Per il gadget del futuro Quello che supererà gli smartphone Stiamo parlando di AI PIN Che hanno presentato Un po' di tempo fa E' uscito in commercio Sono arrivati i primi dispositivi Nelle mani degli utenti Come sta andando? Non è andata benissimo Si è andata Si è andato Dall'articolo del Time Che ho postato The best inventions Of 2023 Rethinking the smartphone Human AI PIN Con una piccola Tra l'altro Postilla in fondo Perché I co-capi Del Time Il giornale Il settimanale Erano anche investitori Sono anche investitori All'interno di Humane Quindi Questo non è assolutamente collegato Al fatto che sia la migliore invenzione Del 2023 Però ce l'hanno scritto Usarei a dire che è la migliore invenzione Del secolo Esatto Ci hanno provato ragazzi Ci hanno provato Ci hanno provato No ma infatti Per arrivare poi Non so se avete visto Il video di MKBHD Che ha titolato Vabbè anche lui deve fare i click Però comunque ha titolato Il peggior gadget Che io abbia mai A cui abbia mai fatto una recensione E sono arrivati Sono un po' preoccupato Però E io ti ho pensato Infatti Ti ho pensato Tu e il tuo Rabbit Iai Come che si chiama R1 Rabbit R1 Perfetto E ho ripensato A quando Quello sarà bellissimo Tranquillo Non vediamo l'ora che arrivi Esatto E ci farai una recensione Sto iniziando a pensare di no Che lo lascerò nella scatola In tonso Sto aspettando 20 anni Che acquisisca un valore storico Certo Considerato quanti ne hanno venduti Non lo so La tua curiosità nerd Secondo me vincerà Perché comunque provarlo Allora La prossima volta ne ordino due Ho capito Bravissimo Così uno lo mangi Le recensioni Comunque di fatto dicono Che è un oggetto con un potenziale Perché tutti comunque Ne intravedono un potenziale Che oggi Al prezzo D'acquisto e di abbonamento Che con cui viene offerto Non c'è Anche la tv 3d Aveva un potenziale No Quello non l'ha mai avuto Quello solo per te forse Nessuno ha mai detto E' anche un grande sostenitore Della tv 3d Proprio dal primo momento E sì Allora Poi c'è anche una questione Molto importante Di quelle che sono state Le scelte tecnologiche Fatte per questo strumento Ve lo ricordate E' quello che aveva Questo laserino Che ti proietta Un qualche tipo di interfaccia Sulla mano E tramite la telecamera Ti riconosce poi Anche i gesti della mano Quindi ad esempio Chiudi il pugno Ed è una specie di click Muovi la mano In un'altra maniera E ti fa girare il menu Ecco in una delle recensioni Ho letto Il giornalista Che diceva Mi sento un imbecille A fare questo In mezzo alla gente Che poi come dire Non vuol dire niente Perché facciamo oggi Tante cose Che ci fanno probabilmente Sembrare degli imbecilli A gente di 30-40 anni Ci farebbero Mi ricordate Il labirinto in legno Quello con la L'abirinto In tutti i buchi La pallina Dovevi far Inclinare Per fare Ecco I video di quelli Che usavano Il menu Mi ricordo esattamente Quello Che cercavano Di far arrivare L'icona Selezionata Muovendo la mano Esattamente come Il labirinto Sì esatto Questo appunto Il form factor Non aiuta Poi appunto Siamo in un momento Di sviluppo Magari Forse si vedrà Anche di innovazione Quindi ci sta A sbagliare Chi l'ha ordinato Ecco Spero che se lo potesse Ampiamente permettere Immagino se lo potesse Ampiamente permettere Quindi come dire Non lo vedo Come un grande danno All'umanità O al Vabbè Un tentativo È un tentativo Certo Ci sta La botta online Di tante cose Che ho letto E che Forse non c'è bisogno Di un aggeggio Di un aggeggio nuovo Perché sono tutte cose Che uno potrebbe fare Con un telefono Con uno smartphone Magari Con dei Ripensato In maniera leggermente Diversa E se uno vuole vivere Senza uno smartphone Con un Orloge Un apple watch O similare O degli occhialetti Quale sarà L'invenzione A proposito Intanto Intanto spiegami Come si chiama Quel gioco Di cui parlavi Quello con la piattaforma La pallina Che peraltro È un gioco tipicamente Medievale Lo sanno tutti La ballotta Ci avrà un nome Anche quello lì Io sapevo Che era il labirinto Ah il labirinto Tu lo chiami Però secondo me C'ha un nome C'ha un nome Medievale Deve averlo Bisogna che lo cerchi Un attimo Su wikipedia Avresti mai pensato Di realizzare Un gioco del genere In 3D Su Apple Vision Plus Pro Come si chiama Sarebbe bellissimo Direi che è il caso Di utilizzo Perfetto E considerato Anche il successo Che sta avendo Presso Chi l'ha ordinato E chi l'ha ricevuto Che sto leggendo E ascoltando Delle recensioni Meravigliose Che in confronto Quelle di AI PIN Sono Sono mirabolanti C'è del sarcasmo Delle tue parole No assolutamente La recensione media Anzi L'unica C'è ancora del sarcasmo Delle tue parole L'ho finito Sarcasmo di secondo livello L'ho finito Le recensioni Più o meno Sono tutte uguali E dicono È un oggetto Tecnologicamente Stratosferico Non ho mai visto Una roba del genere È una cosa incredibile L'ho ricevuto da un mese Sono 28 giorni Che non lo prendo Ma Quindi Più o meno Due mila dollari Siamo visto che costa Quattro mila Due mila dollari Al giorno di utilizzo Esattamente Finito lì Finito lì Devo dire che Apple non ci sta Mettendo del suo Perché Ha fatto uscire Veramente Niente Praticamente Di contenuti 3D Oltre a quelli Bellissima app Per il baseball Ah perfetto Che è stata criticata Da tutti Perché non funziona Ah non sapevo Benissimo Ah è quella Con i Con i Con i cambi Di regia Che fanno venire Il volto a stomaco Quella roba di Esattamente Che ti fa vedere Le partite di baseball Dal punto di vista Della pallina Che è bellissimo È fantastico Prendi delle mazzate Sui denti C'è anche Feedback Haptico Anche No per favore Ecco il fallo Ogni mazzata C'è un Sentì la botta Nei denti Indossi anche La Zozo Suite Deve ricordate La tutina Certo Il concetto è AI pin Vedremo rabbit Vediamo Occhialazzi Vari Eccetera E che vale sempre Il solito discorso Che oramai è in piedi Da dieci anni Dodici anni Quattordici anni Non scommettere Contro lo smartphone Non so dove l'ho sentita Per la prima volta Ma non posso Che sottoscrivere Questa cosa Tutte le volte Che qualcuno È uscito Con un Con un qualche cosa Che doveva Superare lo smartphone Questo qui Smartphone killer Esattamente O almeno Aspetta la versione 1.1 Se esce Cioè nel senso La prima versione Che esce Ormai abbiamo capito Che sono sempre Facciamo anche due Tre va Sì sì Infatti era Beh diciamo che Queste start up Se la 1 fa un buco Nell'acqua I soldi Per arrivare Alla 1.1 Difficilmente Ce l'hanno Però Vabbè Ci abbiamo Ci abbiamo provato Ringraziamo Due Tipi strani I produttori esecutivi Sono i responsabili I colpevoli Sono quelli Che vi portano Questa trasmissione Che state ascoltando Dentro il vostro telefono Perché Perché la producono Economicamente Ne permettono La realizzazione Lo fanno Aiutando La crew Di Digitalia Restituendo Del valore Che per loro Equivale Al valore Che ricevono Dalla trasmissione Si chiama Value for value Nel gergo Del podcast In 2.0 Si chiama Noi lavoriamo Voi dateci Qualche cosa in cambio Funziona come la trail Gratuita Voi ascoltate gratis Non c'è bisogno Di pagare Per ascoltare Digitalia La prima La seconda Anche la centesima volta Ma Il nostro Accordo morale Prevede Che se Digitalia Entra a far parte Con una certa regolarità Della vostra settimana E beh Vi chiediamo Qualche cosa in cambio Non è il caso Di svenarsi Pensate a quanto Spendete per i caffè Alla mattina Quello che spendete Che ne so Per guardare Netflix Tutte le settimane Pensate ai vari abbonamenti Pensate a quanto vale Per voi Digitalia In termini anche Di tempo Di contenuti Di intrattenimento Rispetto a tutto l'altro E trasformate Questo valore In una cifra Ma datecelo indietro I sistemi I canali Sono tutti aperti Paypal Satisfay Bonifico bancario Bitcoin Versamento on chain Versamenti automatici Con i satoshi Del podcast in 2.0 Insomma noi teniamo i canali tutti aperti Lavoriamo per voi Voi dateci una mano In cambio noi vi ringraziamo anche Direttamente in trasmissione E nelle note della puntata Direttamente in trasmissione Penso che ci penserà Penso che ci penserà Bravo Francesco questa puntata C'hai voglia Pensavi che ci avrei pensato Pensandolo giusto Ho pensato bene Bravissimo E quindi inizio a ringraziare I nostri streamer Però Capitano Harlock Nicola Gabriele del Popolo Michele da Milano Paolo Bernardini Brain Repo F Trava Ale Pop Anonymous Jackal Idol Fellow User 65 qualcosa E Arzigogolo Mitici Mitici Grazie I nostri pionieri Del value for value Grazie a tutti Mitico anche H. Grinta Che ha capito come funziona Lo streaming E ha fatto un boost Boost Grande Devo caricare un po' di roba Di più di altre robe di boost Fantastico Grandissimi anche i nostri Perpetuali Che tutti i producer Che tutte le settimane Ci danno il loro contributo Manuel Zavate Davide Tinti Con loro euro Nicola Gabriele del Popolo Con i suoi due euro Grandissimi Grazie di cuore E entriamo poi nel gruppo Delle donazioni ricorrenti Da 50 centesimi Alessandro Stefanin Un euro Vincenzo Ingenito 1,1 Stefano Cutelle 1,11 Qua aggiungiamo sempre di più numeri E precisione Simone Andreotti Matteo Tarabini E Carlo Thomas Grazie a tutti Grazie anche a Andrea Guido Con 1,50 euro Alessio Ferrara Andrea Nicola Vasile E arriviamo al gruppo Dei donatori ricorrenti Da 3 euro Tutte le settimane Che sono Edoardo Zini Alessandro Lazzarini Alessio Conforto Davide Capra Raffaele Marco Della Monica Renato Battistin Raffaele Viero Cristof Solami Luca Ubiali Diego Arati Antonio Taurisano Alessandro Morgantini Simone Podico Michelangelo Rocchetti Mario Giammona Dennis Grosso E Michele Francesco Falzarano Grazie Grazie di cuore a tutti I mesi arrivano 3,21 euro Da Andrea Picotti Che ringraziamo Come ringraziamo Per i suoi 5 euro Di metri Martignago Scusami E 5 euro ricorrenti Arrivano anche da Giovanni Priolo Calogero Augusta E Letizia Calcinai Mitici Mitici Mitico e ringraziato Anche Andrea Siligaglia Per i suoi 5,32 euro Ricorrenti Ed entriamo nel momento Dei grandi produttori Della puntata 10 euro ricorrenti Ci vuole il jingle Ci vuole la ola Ci vuole Esatto 10 euro ricorrenti Di Paolo Tegoni 10,58 da Mario Cervai 12 Una tantum Di Riccardo Cristiano Grandi Leader Fragli producer Della puntata Con 22 euro Fiorenzo Spampinato Grazie a tutti Grazie davvero di cuore Per aver capito Il meccanismo di Digitalia Per averlo supportato Non solo Ci fate venire voglia Ci fate continuare La voglia Di fare Digitalia Ma ci rendete orgogliosi Di aver costruito Una community Con delle persone Così lungimiranti E generose Perché insomma Quando puoi avere Una cosa gratis Ti chiedono una mano Economicamente E tu ci metti dei soldi Non c'è niente da fare Rispetto alla massa Vuol dire che sei generoso Grazie di cuore È per voi Che noi facciamo Digitalia da 15 anni Ed è per voi Che Digitalia Continuerà a esistere E se sentite solo adesso Perché avete fatto forward Avete schippato il capitolo I produttori esecutivi Noi vi ammorbiamo Ricordandovi che Digitalia È un progetto value for value Non è gratis Dateci una mano Perché noi stiamo Veramente lavorando qui Mentre registriamo per voi Come tutte Tuttissime Le settimane E lavoriamo tutta la settimana Per mantenerci informati E per continuare A far funzionare Tutti i sistemi Grazie davvero A chi ci supporta Settimana dopo settimana Capitolo Capitolo AI I Pink Floyd Cosa hanno pestato Un merdone I Pink Floyd Michele E hanno pestato Un merdinone Una via di mezzo Nel senso Una cortina Una cortina Di pupù Un muffin Diciamo Più che una cortina Esatto È il cinquantesimo anniversario Di The Dark Side of the Moon Che esisteva da prima di Digitalia Ebbene sì E per celebrare Hanno deciso Di indire un concorso Di indire Di imbandire un discorso No Un concorso Di video Una tensione Una singola attenzione Certo Di video E quindi Gli astanti Si sono concentrati Nel creare Dei video Che rappresentassero Delle canzoni Dei Pink Floyd Tra questi Poi Ha vinto Ha vinto Un video Di Any Color You Like Che è appunto Una delle canzoni Di The Dark Side of the Moon Fatto Tra virgolette Da Damien Goumé E insomma È uno di quei video Che sono sicuro Avete visto Almeno una volta Nelle ultime due ore Di quelle Un po' Onirici Di quelle Immagini Che vanno In morphing Tra una e l'altra Diventando Sempre più strambe Generato Da un Language Large Language Model Video Che è un po' Hanno anche un po' Rotto il cazzo Perché va bene una volta Va bene due Poi onestamente Sono abbastanza tutti uguali Non mi fate perdere la pazienza Michele Per piacere Che anche Gilmore Che poi Pink Floyd Vuol dire David Gilmore È la moglie È la sua Yoko Ono C'era Pauline Qualcosa del genere Pauli Sanson E niente C'è stata Una rivolta Dei 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 fan Dei Pink Floyd Che hanno preso I forconi Dicendo Al grido Ah la band Ha sempre supportato Gli artisti Come Permettete Di far vincere Un video Che Invece Gli artisti Indirettamente Magari Li ha sfruttati Con appunto La creazione Del Large Language Model Con Dei contenuti Sotto copyright Di qualcun altro Basta Questa è un po' La storia Si sono salvati In corner Perché Han deciso Di non dare Al vincitore Nessun premio In denaro Che era parte Del concorso Ma Così hanno anche Risparmiato No L'ha andata in alto Ah ok Vabbè Vabbè Se la sono un po' Vabbè Però il punto Per secondo me Questi video Ma in generale La L'arte Una Una parte Dell'arte Generata Dall'intelligenza Artificiale Rimarrà un po' Nell'estetica Di questi Tempi Come noi Come oggi Sia un po' Nostalgici Dell'estetica Degli anni Ottanta E anche oramai Ampiamente Anche degli anni Novanta Tra vent'anni Qualcuno Per qualche ragione Sarà Andrà a recuperare Le copertine Degli episodi Di digitalia Esatto Comunque A difesa Di questo video Secondo me E' vero Che quell'estetica Degli anni 2024 Perché è molto Preciso Con queste immagini Strane Però tutto sommato Ci stava Con la musica Di Pink Floyd Cioè Aveva un senso Cioè Mentre con qualsiasi Altro artista Musicale Probabilmente Non c'entrava Assolutamente nulla Con quel brano Con quell'atmosfera Aveva un suo perché Secondo me Cioè Io concordo Sul tuo giudizio tecnico Che hai detto prima Che non mi ricordo E non cito Ma Dillo Però Abbi il coraggio Però Nello specifico Un po' meno Rispetto a quello Che hai detto tu prima Ecco Quindi No ma Visto Ripeto Visto una volta Va bene Due volte Va bene Diciamo che si sta Un po' anche abusando Di questi tempi Ce l'hanno tutti Con l'intelligenza Uno non può Utilizzare L'intelligenza artificiale Bene Che se la prendono Tutti con lui L'ultima Sono I Quelli che criticano I restauri Dei film Con l'intelligenza artificiale Cosa è successo lì? Sì L'articolo del New York Times Dove Come dire Anche lì Non è tanto Una questione Di Notizia Facciamo le basi Prima Una serie di film Negli ultimi Mesi Anni Sono stati Restaurati Tramite Utilizzando L'intelligenza artificiale Cosa vuol dire? Vuol dire che In particolare L'articolo E le polemiche Si Prendono di mira Una serie di Film Di James Cameron Esatto The Abestro Lies E Aliens Aliens Esatto Aliens che ricordo Essere stato Criticato Già qualche anno fa Quando Forse lo cita però Anche l'articolo Quando fu rilasciato In versione Ultra HD Qual è il punto? È che questi film Sono stati girati Con pellicola Utilizzando Una fotografia Adatta A quella A quella pellicola Che portata Alle altissime Risoluzioni Dell'Ultra HD Visti Su una Televisione Che non è Uno schermo Del cinema E che non è Neanche un tubo Catodico Rende Mi ricordo Che si vedevano Delle immagini Ad esempio Degli sfondi Che a quel punto Si perdeva Quella magia Nell'articolo A un certo punto Uno dei critici Dice Non so neanche Come descriverlo Quello che è La sensazione Che provo Vedendo Queste Immagini Si vede Magari La plasticosità Dello sfondo Dei props Perché non erano Stati pensati Per essere visti Su schermi Così Il tuo schermo Di obiettivo È piccolo Sai già Che sarà poco Illuminato Quindi poi Permette di sfocare Tutto lo sfondo Che tanto non si vedrà Poi ti arriva L'Ultra HD Casalingo E poi Soprattutto Con Il contrasto Sparato A mille E qui veniamo Poi al tema Dei large language model Che possono aver inficiato Il contrasto Sparato a mille Il Sharpen La nitidezza La nitidezza Sparata a mille E appunto Perdi Quella Quello che appunto Uno è forse anche Come sei abituato A vedere Determinati Determinati film E quindi ti fa Doppiamente strano E poi appunto Pensati Per altre Tecnologie Ci sono due Ci sono Ci sono due Fattori Da tenere In considerazione Due situazioni Abbastanza diverse Secondo me L'articolo parla Anche di film Molto più vecchi Come documentari Sulla prima guerra mondiale Che vengono restaurati E quelli sono ovviamente Molto più danneggiati Molto più di bassa risoluzione Spesso anche proprio danneggiati Dal tempo Dalle intemperie E Nessuno si lamenta Del restauro Con Questi sistemi C'è quello di Peter Jackson Che non so se l'avete visto È spettacolare Non l'ho visto Se mi mandi un link O ce lo gingilli Da qualche parte Potrebbe essere un bel colpo Sì 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 Però Sono due I difetti Tra virgolette Che possiamo I tipi di difetti Che possono darci fastidio In questo tipo di Operazioni Uno È quello Dell'Huncani Valley Cioè Un tipo di elaborazione Che è In qualche modo Si avvicina alla realtà Ma con degli errori Particolari Che A un primo A un esame così O a una visione Così superficiale Non sono così evidenti Ma che ti danno Un'impressione Di No Averci provato troppo O qualcosa del genere C'è anche una C'è anche L'altro motivo è Essere abituato A vedere Un determinato contenuto Proprio quel contenuto Con Un certo tipo di Di media Di qualità È lo stesso È lo stesso fenomeno Dei 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 Spesso Chi critica Queste operazioni Sono I fan I fan più spiegatati Perché Chi è che va a scrivere Sul forum Dedicato Ai film Di James Cameron Sul restauro Di quel film lì E quello lì È La persona più sbagliata In realtà Per valutare L'effettiva qualità Del restauro Perché Perché lui è abituato Non solo è abituato A vederlo In quella maniera Ma è Lo ama In quella maniera Tira fuori il laser disco Dal cassetto E se lo Senta Storie di vita vissuta Sì comunque È così Non c'è niente da fare Io il primo disco Che ho amato Quando andavo in Quando andavo Quando andavamo in macchina Con i miei Che ero bambino Avevamo una cassetta Che mio padre Aveva copiato Dall'LP Di Making Movies Dei Dire Straits Mio padre Non è mai stato Né un audiofilo Né niente Però aveva un bel Giradischi Con un bel impianto Eccetera Ma Manco puliva il disco Prima di metterlo su Per cui La registrazione Su quella cassetta Aveva Prima che iniziasse Ancora la prima canzone Io sapevo già Che disco Stavo per ascoltare Perché riconoscevo I crack I crack Della polvere Per mille anni Ho ascoltato Lo stesso disco In mezzo a molti altri Mi è sempre piaciuto Tantissimo È uno dei dischi Che per ovvi motivi È uno dei dischi Della mia infanzia Ma è un disco Che adoro Mi piace Ma se oggi Vado in soffitta Da mio padre Dove c'è ancora Quel giradischi lì E prendo quel vinile lì E lo metto lì sopra E lo inizio a Riprodurre Siamo in fascia cotetta È una Diciamo che è una magia È una magia È una magia Ok va bene Te la concedo È una cosa È una cosa Che per me è sovrannaturale Perché non è lo stesso disco Che io ascolto su iTunes Con delle casse meravigliose Con una qualità Eccetera Dolby Atmos È una cosa completamente diversa È crack pop Ma quando inizio a sentire Crackle prop Io inizio Inizio Va bene Io che non ho mai ascoltato Making Moves Esatto E oggi dovessi ascoltare Mi metti su una roba Che È vero 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 C'è un po' e un po' Eh no infatti volevo fare In realtà c'è un po' e un po' Perché io di film Non capisco niente È Ma Ma Nell'audio Nel mondo dell'audio In realtà I dischi di quegli anni Venivano In tutta la fase di produzione Dalla composizione A come venivano suonati A come venivano registrati A come si faceva il mix A come si faceva il master Ingegnerizzazione Era tutto in funzione Che poi sarebbe finito Nelle orecchie della gente Su quel mezzo lì Per cui tante volte Se vai a ascoltare Un remaster Di quel Del disco Le cose In tecniche moderne Eccetera In realtà Suona meno bene Anche i film Anche i film Nel senso che comunque Io Ho fatto il giro Di vari studios Per mia passione E effettivamente Raccontavano Come Certe inquadrature Comunque sono fatte Sapendo Quello che la macchina Da presa E quindi lo schermo Andrà a mostrare Certi particolari Non li mostri Rilasci sfocati apposto Rilasci sullo sfondo Perché non servono Se poi li rendi visibili Perché Appunto Sono i due 12 pollici Che avevamo una volta Adesso c'è il 400 In casa Certo E tutto cambia Cambia Quindi un avatar Quindi un avatar 2 Di avatar 2 Girato ora È un'altra cosa Certo Ma non è più avatar 2 Capito È come È come guardare Il remake Di magnum pi Non so se l'avete mai fatto Vi tagliatele bene Alla prima scena Poi si arriva I simpson Che tagliano Le battute Esatto Era lì che volevo arrivare Poi guardando Poi anche lì Non ne capisco niente Però guardando Gli screenshot E i confronti Fatti sull'articolo Del New York Times Alcuni sono Quello che raccontavo Prima Quindi il dettaglio Del poro Della pelle Di Arnold Schwarzenegger Perché il contrasto È sparato a mille E la nitidezza A tremila E quello Può piacere Non piacere Però ci sono Degli altri esempi Di confronti In cui cambia Abbastanza però La colorimetria Dell'immagine L'immagine diventa Più chiaro Quello è un errore Quello è un errore Esatto Mi viene a dire Che si me la prendi Perché se nella reddizione Cerchi di dare L'impressione Che avevi con i mezzi Di allora Un conto Se nella reddizione Tu qua tutti I screenshot Sono probabilmente fatti Con lo stesso È già uno screenshot È un'alterazione Screenshot presi Con e senza AI Ma probabilmente Noi ci facciamo Tutte queste pippe mentali Ma in realtà I film servono A vendere un casino Perché a far vedere A quattro videofili O ascoltare a quattro audiofili Per quello che riguarda i dischi Non gliene frega niente a nessuno Ma si vuole A far vendere A un miliardo di persone Di quel miliardo di persone Il 99,9% Non frega niente Lo guardano su una televisione Che è ancora in modalità Demo negozio No? Avete presente? O peggio in modalità film Perfetto Per cui già Anche per console Io comunque X-Files Lo guarderei anche Con un telo nero Davanti al video E mi emozionerei comunque Io ho i miei DVD E io per me L'unica edizione È quella in DVD Il Blu-ray Non l'ho mai comprare E non lo vedo in streaming Ne ho anche qualcuno In VHS Fra l'altro Recentemente Per mie tranchie Ho dovuto recuperare Il VHS Perché sto trasferendo Alcune videocassette Io ho i DVX Valgono lo stesso Sono DVX3 Secondo me sì Perché hanno un valore Beh Il DVX mi fa scendere Un po' la lacrimuccia Perché io Quando da giovane Da ragazzo Quando X-Files Era in onda Con No vabbè A quel punto Non avevo più il 56K Ma ero passato Al 205 Alla DSL 256 E la B-Broadband Di Telecom Io lasciavo Il computer acceso Tutta la notte Con la ventola Che non era una notte Con Emule Emule attaccato Che scaricava Le puntate Di X-Files E certo E ci avrai anche tu La pila Una pila così Perché ogni Ogni disco C'era un episodio Al massimo due Ce ne stavano Per avere Tutto la serie Eh sì Perché poi 700 mega CD Erano due episodi A CD E poi aggiungo un pezzo Perché le serie Ai tempi Scusate Il momento Ma Erano di 24 episodi Quindi sono 12 CD E i CD Non costavano Ho sentito recentemente Dire Eh no Quella serie Ha 8 episodi Per stagione È troppo lunga Troppo Come troppo Cavolo È così È così Eh ma Non c'è più Non c'hanno più voglia Di fare un cacchio Da quelle parti Comunque Questi attori Questi registi Tutti i remasterizzazioni Tutto così Serie Mega serie Sei puntate Vabbè La stagione successiva In edicola Il cofanetto Premium Dell'edizioni digitali Remastered In Ultra HD Della prima Versa Valedizioni cyberpunk In flop Eh certo Gli studenti Espulsi Per aver usato L'IA In Svezia Li saltiamo A pie pari L'iPhone Che mostra La bandiera Della Palestina Al posto di quella Di Israele Per il momento Anche Negli Stati Uniti Vogliono proporre Questa Questa nuova legge Che Obbligherebbe Le aziende Che si occupano D'intelligenza artificiale Di Rendere pubblica La lista Dei materiali Coperti Da copyright Che vengono utilizzati Per l'addestramento Delle loro reti neurali Io Mi sono chiesto Capisco Il valore Di questa legge Io no Mi sono chiesto Se Gli mandano Un fax Con una pagina Per ogni cosa Che hanno utilizzato E diventa come La versione flop Di cyberpunk I nomi dei file Esatto Gli mandano I nomi dei file Cioè Cos'è che devi dare Come Visto la dimensione Delle sorgenti Di training Cioè il quantitativo Di oggetti Vengono utilizzati Ci voglio vedere Secondo me È classica cosa Che gli arrivano Con la carriola Di file stampati Il problema Io andrei oltre Leggiamo da tutte le parti Che C'è solo un modo Oggi O Il modo Uno dei modi Più importanti Per Creare Un sistema Generativo Una rete Neurale Più efficiente Della versione Precedente E migliore Rispetto a quella La concorrenza E allargare La base di dati Su cui viene fatto L'addestramento E che quindi Oramai Queste aziende Sono affamate E assetate Di dati E che quindi Fondamentalmente Razzolano Tutto quello Che possono Numero 5 Necessita input Esatto Necessito input E' proprio così E quindi Abbiamo letto articoli Dove Non so se riusciremo A parlarne oggi Dove Big Tech Ha fatto carte false Ha ingannato I suoi utenti Ha tagliato Ha preso scorciatoie Per mettere le mani Su Materiali in più Che in realtà No YouTube Che ha Trascritto Video No Anzi Gente fuori Da YouTube Che ha preso Ne hanno fatte Di tutti i colori Fondamentalmente Oggi Questi sistemi Generativi Sono basati Su Tutto 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 il materiale Che esiste Che è online O che è Digitalizzabile Se lo sono mangiato Tutto E Considerato che Il diritto D'autore Negli Stati Uniti Come esattamente Da noi Non è una cosa Per cui tu fai Richiesta No Ho scritto Una poesia Adesso devo Decidere Se lo copro Da diritto D'autore Ma Esatto Non è neanche opt out È inalienabile Poi tu puoi dire Che cedi i diritti O che lo rendi Disponibile per tutti Ma il diritto D'autore Resta Tu Non rinunci Al diritto D'autore Il diritto D'autore Può scadere Dopo N decenni A seconda Delle leggi Dei vari paesi Ma il diritto D'autore Ce l'hai E te lo tieni Poi tu puoi dare In licenza Gratis A tutto il mondo Di vedere O meno Quello è un altro discorso Per cui fondamentalmente Il cento per cento Del materiale Utilizzato da queste persone È protetto Da copyright Per cui la lista Del materiale Protetto da copyright Utilizzato da questa gente Per addestrare I loro sistemi È Tutto È una parola Tutto Lo scivile umano Esatto Asterisco Punto asterisco Penso che copyright In questo caso Si intenda proprio Lo sfruttamento economico Del diritto D'autore Cioè nel diritto D'autore Inteso come Infatti copyright Spesso è Non capisco Anteposto a copyleft E la differenza Si tratta di materiale Diciamo commerciale E non Ma è comunque tutto Sì Sì No è comunque tutto E loro fanno Un etnizzo commerciale Mi sembra di capire Al mille per mille Sì diciamo Si esclude Quelle poche cose In creative common Con permesso commerciale Che Sono veramente poche Però insomma Spotify sta testando Le playlist Generate Con i sistemi generativi Con i text prompts Fammi una playlist Che onestamente Che le state A me sembra una figata Ad esempio Ok che Fino a quando Non ti troverai Nino d'Angelo In mezzo alle tue playlist E in quel caso Seggio ancora L'ultimo singolo trapto Perché Io Purtroppo Per anni Ho voluto dire No Tenda europea Usiamo Spotify Limentiamo abbonati Finché Per ovviamente Le playlist Non AI Erano veramente Troppo No Le ho state Verso cose Che non mi interessavano Non c'era modo Di uscire Ma infatti Quello perché Io ho smesso Oramai da Sette Ootto Anni No Mi sa Quasi dici anni Di ascoltare Le playlist Generate Manualmente Da Spotify Per E non trovo Delle playlist Che magari Vanno Nella nicchia Che cerco Io Perché la tua nicchia È abitata Da un solo essere Vivente Sei tu Sei una nicchia Ma Quello serve L'intelligenza artificiale E poi devo dire Finora Per tutti quelli Che sono gli algoritmi Se metto Una radio Finta radio Di Spotify Di musica italiana Stai tranquillo Che non ho mai sentito Vasco Rossi Non ho mai sentito Liga Bue Non mi è mai arrivato Sfera e bassa Quindi ho abbastanza fiducia Hai navigato a vista Bene No no ma anche perché Io sono L'ho già detto Alle volte Sono terrorizzato Dall'allenare male Gli algoritmi Che sia quello di Spotify Che sia quello di YouTube Io Se vedo un video Che non dovrei vedere O se ho ascoltato L'ultimo album Dei Club Dogo Che mi ha fatto cagare Perché non è la musica Che mi piace Sono andato su Spotify E ho impostato Non considerare Questo album Del mio profilo E l'ho minacciato Quale è un'opzione È l'opzione Nerd Nevrotico Però dovrebbero Metterla un po' In tutte le cose Netflix Non aveva detto Che avrebbe fatto Una roba del genere C'è il pollicino giù Esatto Ah ok Voglio dire quello Non mi piace Ok ok E Vabbè Per ora in beta Credo soltanto Su qualche utente Soltanto su alcuni mercati US UK Quindi ora che arriverai In Italia Ce ne vorrà un po' di più Mi chiedo Che prompt Potremmo dare Alla nostra Playlist Eh possiamo fare Dopo aver generato La copertina Degli episodi Usiamo lo stesso prompt Per generare Anche la Playlist musicale Associata alla puntata Questo secondo me Sarà il futuro Stay tuned In Ultra HD 3D TikTok Potrebbe Eh Aggiungere Avatars Generativi Che Eh Girano Eh Inserzioni pubblicitarie Spiegamela un po' bene Questa Michele Allora Questa è un Bel tela L'avevo detto Perché io mi ricordo Distintamente Che abbiamo Sospettato Grazie Mi ricordo Che un anno Ma probabilmente Anche qualcosa fa Eh Abbiamo parlato Di questo scenario Cosa succede? Tiktok Che Prenderebbe Le fattezze Di alcuni Influencer Credo Si parli In realtà È un leak Di Di un Di un sito Quindi ancora Non c'è niente Di Niente di Concreto Prenderebbe Le fattezze Di alcuni Di alcuni Influencer Andando Andando poi A personalizzare I contenuti Per il singolo Utente Quindi se io Ho Me la immagino Che se io appunto Seguo un determinato Influencer Che parla di Stampanti 3D Questo è il mio Tiktok E Qualcos'altro Lo cancelli Assolutamente E se domani Voglio scoprire Qualcosa Su come si fanno Le pizze Ecco Tiktok Prenderebbe Le fattezze Dell'influencer Che parla di Stampanti 3D Per spiegarmi Come si fa la pizza Perché sa Che è un influencer Che mi piace E che quindi Seguo E che quindi Guiderebbe Le engagement E i KPI Di engagement Farebbero Pem Pem Quindi Sì Si va Della pizza Che sperate Di fare breccia Nei cuori di Michele Non c'è spazio Neanche per quello Assolutamente E sì Si va Verso Almeno questo Tipo di esperimenti Perché poi Ogni tanto Su Tiktok Mi è arrivato Qualche video Di qualche Influencer Che ha creato Dei contenuti Utilizzando Degli avatar Chiaramente Posticci E onestamente Il mio engagement Decisamente Non è andato Non è andato Verso l'alto C'è un problema Molto forte Di Ancanny Valley E come la generativa Di testi Ma anche Di immagini Come dire Manca Quello spirito Di creatività Che magari Ti tiene Un po' Più attaccato Che dite Il capitolo Quello Sui rischi Dell'intelligenza Artificiale I giapponesi Che dicono Che finirà Il mondo L'articolo E Bruce Shiner Ci sarebbe Da farci Una puntata Intera E quindi Lo saltiamo O volete È un argomento Molto interessante Direbbe qualcuno Ma possiamo Andare avanti Direi che Direi che Sì Niente di particolarmente Io lo metto Quello molto bello L'articolo Quello lì Follow the money Occhio Che i rischi Non sono esattamente L'apocalisse robotica Ma che Semplicemente Gli esseri umani Nella loro storia Hanno dimostrato Che Quando ci sono I soldi di mezzo È la ricerca Del denaro Quella che rovina Tutto E che manda In malora I sistemi Iniziati Con le migliori Intenzioni E le migliori Prospettive Ecco Quello lì È un bel articolo Decisamente I secondi in scaletta E non è un caso Che sia successivo È quello Dell'evoluzione In social media Con le AI Le due cose Sono da leggere Veramente Uno dopo l'altro Certo Quelli sono Certamente Certamente Francesco Urca Come va la tua La tua La tua prostata Come sta Ma perché Cosa c'entra La prostata Di Francesco GoDigital No Francesco Francesco Ha iniziato Qualche anno Fa una brillante Carriera O almeno Le prospettive Ai tempi Quando ha capito Che non c'era Verso Di diventare famoso Come esperto Di televisione 3D TV connessa Roba del genere Ha buttato Ancora molto Però Ha buttato Tutte le sue energie Sull'imparare A sviluppare Le skill Per Alexa E ne ha creata Una anche Per Digitalia Che funziona Ancora oggi Che viene utilizzata Credo da zero Persone Ogni 365 giorni Una percentuale Come vanno Ste skill Di Alexa È durata Quanto La mia passione Per questa cosa È durata Più o meno Quanto un video Sbagliato Sul feed Di Michele Nel senso che C'è stato un grande Entusiasmo All'inizio Effettivamente Non so L'impressione Che si vedeva Che tolte Poche cose Che ci fosse Tanto Da fare E effettivamente Sembrerebbe Che se ne stia Accorgendo Anche Amazon In questo momento C'è il Di skill Quello che si fa Su Alexa Finora È le funzioni Base Meteorario Ricette Timer Pare i trivia Io questo ammetto Che invece A me non ha mai Creato engagement Ma Engagement Si utilizzava Nel medioevo In Italia Scusami Non ha mai creato In me In 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 Per cui Insomma Tutto il Resto Effettivamente Non è Che ci fosse Sempre Tanto Poi L'impressione E che Comunque Un po' Tutto quello che si trova Sia spesso Abbozzato Nel tentativo Di Creare Un qualcosa In futuro Che poi Non arriverà mai Sembra Perlomeno Che adesso Anche Le Sponsorizzazioni Che Amazon Stessa Dava A chi voleva Intraprendere Questa carriera Brillante Non stiano Verranno bloccate Quindi Fondamentalmente Pagava Una piccola Quota parte Di server AWS Perché Utilizzava Per Reservare Applicazioni Questa Cosa Viene Rimossa Parte Probabilmente Di un Ridimensionamento Di Alexa Da una parte Parte anche Dell Dell'ipotesi Probabilmente Si arriverà Verso Un Modello Prima o poi Large Language Model Quindi un po' Più Che Non necessita Della Della Specificità Della Skill Quanto Di altre Capacità Ecco Quelle che I vari CGPT E compagnia Ci hanno abituato Ora ad avere Bene Stavo cercando di capire Non mi viene niente da aggiungere Voi usate ancora qualche Skill A parte accendi la luce Di micro sono No È un argomento Molto interessante Io ogni tanto Uso quella di Digitalia Per capire se funziona Ancora O se sono scaduti I I certificati SSL Al di là di quella Non ho mai Usata Non ho mai visto Usare da nessuno Non le ho più viste Usare neanche Nelle serie tv E quello Probabilmente È il simbolo Esatto Le serie tv Sapete che una cosa Che ho notato Nelle serie tv Che mi fa preoccupare Veramente tanto Perché come vengono Utilizzate Serie tv Film Da sempre Per orientare L'opinione pubblica I consumi È una cosa evidente Ma spesso è evidente A posteriori Cioè oggi Vediamo le serie Negli anni settanta E fin degli anni settanta Vediamo il tizio Che fuma Tirando sul pacchetto Di sigarette Così Ai tempi Non ci facevamo Neanche caso E oggi Ci stona In una maniera Mostruosa Negli ultimi anni Era quasi impossibile Vedere un episodio Di una serie televisiva Dove non ci fosse Qualcuno Con un alcolico forte Un bicchiere di liquore Gratuito In mano Cioè il personaggio Che arriva a casa Dopo aver litigato Con qualcuno Oppure aspetta Che arrivi qualcuno A casa O qualsiasi cosa L'unica cosa che fa Si versa un bel bicchiere Di whisky E si mette lì a berlo Girandoli A favore di camera No Spesso anche no Perché credo Che siano finanziate Queste cose Da 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 Dei conglomerati Che fondamentalmente Gli interessa Che vengano proposti Degli stili di vita Ecco Ultimamente Ma è da un mese A questa parte Di colpo Ma mi è capitato Per tre o quattro serie In seguito Una all'altra Quello che mi ha stonato È vedere lo stesso comportamento Con i farmaci Cioè vedere Personaggi Spesso positivi Di una serie televisiva Che Tra una cosa e l'altra Scena di taglio Il tizio arriva a casa Apre il cassetto Prende un blister di farmaci Si tira due pastiglie Se le butta in acqua In gola E ci dà una sorsata d'acqua Così gratuito Assolutamente inutile Per la trama della storia Eccetera Fateci caso Se vi capita anche a voi E Un po' anche uovo-gallina Credo che L'uso di farmaci Non sia proprio In diminuzione Eh certo Sì ma quello che dice Franco è che appunto Un mostrare questa cosa Un normalizzare Normalizzare L'utilizzo del farmaco Farlo diventare Una cosa che Assolutamente Ci sono le Lo usa l'eroe positivo È un qualcosa di Eh certo Certo Il farmaco una volta Aveva l'idea Di una cosa che Era spesso utile Necessaria In una situazione Particolare Che andava preso Con cautela Con prudenza Al minimo indispensabile Perché faceva correre Dei rischi Questo tipo di ottica Non è quella che Fa piacere A chi vende Farmaci Perché Sono tutti ostacoli A un utilizzo Maggiore Del farmaco E Fateci caso Ditemi Ditemi se ci Se lo notate anche voi Questo tipo di Questo tipo di cose Ho fatto una ricerca A proposito Di LLM Francesco Il gioco Del labirinto Di legno Con la pallina Di metallo Si chiama Il gioco Del labirinto Di legno Con la pallina Di metallo Non ha un nome Specifico Però in alcune Bard dice Non ha nome originale Univoco Ma è un passatempo Diffuso in diverse culture Con diverse varianti Alcuni nomi Con cui è conosciuto Il labirinto Aperno Il gioco Il gioco Del labirinto Il gioco Del labirinto Le palline Di labirinto Chi è il labirinto? Mi sembra una traduzione Abbastanza Palline di labirinto Come le palline Come si chiamavano Quelle Di Kegel Di Vogel Il labirinto Di marmo In alcune varianti La pallina È fatta di marmo Invece che di metallo Però allora La pallina Non è il labirinto Invece qui È il labirinto Di marmo Secondo me Qui fa casino Marble made No aspetta Marble made Mi sei ragione E lo dico io Cos'è il labirinto Di marmo È una traduzione Sbagliata Perché biglia Si dice marble E che si dice Anche marmo Ma probabilmente Perché le biglie Una volta Venivano fatte di marmo Certo Nel medioevo Marbo di Carrara Michelangelo Adessimo solo qualcuno Nello staff di digitali È esperto Di questioni medievali Francesco Dal nostro Inviato Nel medioevo Esatto Da ressuntologo Sono passato Wow Comunque Indipendentemente dal suo nome Il gioco del labirinto Di legno Con una pallina Di metallo È un passatempo Divertente E impegnativo Che è stato Apprezzato Da persone Di tutte le età Per secoli Al che io ho chiesto A Bard Gemini Chiamatelo Come volete Si usava Già nel medioevo E mi dice Bard Gemini Come sia Non ci sono prove Definitive Che il gioco Del labirinto Di legno Con una pallina Di metallo Fosse diffusi In Europa Durante il medioevo Le prime prove Archeologiche Di labirinti In legno Risalgono Al XVI secolo E la maggior parte Delle testimonianze Storiche sul gioco Risalgono Al VII Al XVII E XVIII secolo Questo ovviamente Non abbiamo modo Di sapere Se è una cosa vera O se se l'ha inventato Di sana pianta In questo momento E qui sta Tutto il focus Dell'utilizzo Dei sistemi generativi Tuttavia è possibile Che il gioco Esistesse in qualche forma Durante il medioevo I labirinti Erano un motivo Comune Nell'arte Nell'architettura Medievale Potrebbero aver ispirato La creazione Di labirinti In miniatura Da giocare Inoltre Alcuni giochi simili Come il gioco Della palla E del cucchiaio Erano popolari In quel periodo Francesco Ci farà un corso Sul gioco Della palla E del cucchiaio Decisamente Un torneo Osere dire Del gioco Della palla E del cucchiaio Comunque La morale Di questa puntata Di Digitalia Che ne uscite Che sapete Qualcosa in più Forse Se è giusto Quindi Avete imparato Forse Il concetto È sempre quello Piracy Shield Urca Capitanio Agicom Questo è il titolo Dell'articolo Piracy Shield Funziona Smontiamo le critiche Su Agenda Digitale Chi ha scritto l'articolo? Che ti vedo tu Chi ha scritto l'articolo? Capitanio Capitanio Se l'hai scritto da solo E poi sei titolato Col virgolettato Va bene Fantastico Fantastico Agenda Digitale Un articolo di Capitanio Della Agicom Che Dice Fondamentalmente Che va tutto bene Che Sono stati bloccati 18.000 indirizzi IP E questo dimostra Che la piattaforma Funziona Perché È come aver sventato 18.000 Assassini Rapimenti Esatto E stupri Di minorenni E quindi va tutto benissimo Per fortuna Sullo stesso Agenda Digitale La risposta Di Zanero Che gli spiega Ti titola Zanero Due punti Perché Bisogna bilanciare È vero È vero Non avevo notato Che Zanero è professore di computer security Quindi insomma Una personcina Che ne capisce Ecco perché bloccare l'IP È una pessima idea Vabbè Non c'è bisogno Che agli ascoltatori Che non ci stava Esatto Se avete ascoltato Digitale Nell'ultimo mese Sapete cosa c'è scritto In quell'articolo Fondamentalmente Sì Lo mettiamo Per cose La Motion Picture Association Negli Stati Uniti Sta lavorando Col congresso Per iniziare A bloccare I siti di pirateria Negli Stati Uniti Esportiamo Quello I prodotti migliori Del nostro paese Allora A dirla Tutta Io l'ho letto Tre volte L'articolo Perché voglio controllare Non parla mai di P Ma sempre di nome Di dominio dei siti Per cui forse 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 Qualcosa hanno imparato No no Ma dobbiamo Dobbiamo insegnarli Perché noi siamo avanti Perché Siamo avanti È al top Il Privacy Shield A livello mondiale Per quello che ottiene Francesco E tu che Oltre a essere Il nostro medievologo Che in confronto Il professor Barbero Ci fa una pipa Sei anche il nostro La nostra vedetta Su Github E sui vari Sulle varie repository E ci hai postato Questa Questa cosa qui Sul Repository Di Bypass Paywalls Che è sparita Sì è sparito Quello su Github Non quello su Github Per cui ce ne erano due Molto simili Fondamentalmente Non sono sicuro Di quale fosse Il sorgente principale O se fossero Indipendenti Però è sparito Uno di questi Plugin Rilasciati in open source Per Bypassare Spesso Semplicemente Nascondendo i banner Che chiedono Di fare la subscription Perché non sono Tecniche Hacker Estremamente complicate Uno di questi Plugin Per l'appunto La cosa che ha fatto Scalpore È come In Github Comunque un'azienda Che rilascia Fai sì che Chiunque possa ospitare Codice aperto Sui suoi server Abbia Gestito così rapidamente Apparentemente La richiesta Di Code infringement Quindi di violazione Del copyright Chiedendosi anche Ma è una violazione Del copyright O meno Perché non è che Si è stato fatto Modifica Dei sorgenti Reverse engineering È stato semplicemente Modificato Dell'HTML Che è visibile Quindi La questione è poi Ancora di più aperta Perché poi Innanzitutto Per chi Non lo sapesse Quindi tipo Tutti Tranne noi tre Bypass Prevolo è anche Uno dei motivi Per cui facciamo Digitale da 15 anni Perché ci permette Comunque Di Noi paghiamo Paghiamo alcuni Abbonamenti Ma non possiamo Pagare tutti gli abbonamenti Dell'universo Dell'universo E quindi Bypass Paywall Ci permette Di portarvi Di poter leggere Un po' di articoli Che non potremmo leggere Altrimenti E poi c'è anche il solito tema Come discorso del client BitTorrent A maggior ragione Bypass Paywall Di per sé È una Estensione Per browser Che legge Da un repository GitHub O git O git O quello che è Nel repository C'è una serie di regole Che come diceva Francesco Non fanno nient'altro Che andare a Nascondere O far vedere Determinate Parti di un sito Che vengono comunque Trasmesse Sul browser Quindi non c'è Neanche Una modifica Del codice Sorgente Della pagina Della pagina Sessa Quindi dal punto di vista Legale È tutto molto flebile Anche se poi in realtà Non mi sembra di aver visto Conferme di azioni legali Ecco È scomparsa E boh Eh vabbè Gli sarà arrivata Una lettera Di qualche avvocato Che ha detto Season disease Eh certo Certamente Certamente La settimana scorsa Avete fatto Un po' di pubblicità La ripetiamo Perché Se no Fiorenzo Mi tira le orecchie C'ha anche ragione È uscito È uscito Game GPT Che è Il È un bel libro Francesco Altieri Fabrizia Malgeri Fiorenzo Pilla E Francesco Ottoniolo Ridefinire il futuro Del game Ridefinire il futuro Del gaming L'impatto Dei large language Models Bellissimo Fabrizia che tra l'altro Ha partecipato a uno speciale Proprio sui videogame È vero Me lo ricordo Un netto e mezzo fa Quindi se volete anche Ascoltarne la voce Oh yes I suoi pensieri Potete recuperare Sul nostro feed È un bel libro È interessante Sono argomenti digitaliani Ma fa parte Della collana Digitale E cosa è la collana Digitale Abbiamo inaugurato Con questo libro Una collaborazione Tra lo staff Di Digitale E le edizioni Che tramite Il nostro amico Fiorenzo Pilla Abbiamo già conosciuto Abbiamo già parlato E anche È già uscito Un libro Pre collana Digitale Ma che potrebbe Farne parte A buona ragione Che hanno scritto Michele Max Giulio Insieme a Fiorenzo E Rossella Dolce E Fiorenzo Ecco giusto Rosse come si intitolava Michele Uno Nessuno Chat GPT Uno Nessuno Chat GPT Fantastico Per cui continua Questa collaborazione Questa sinergia Con una collana digitale A vera e propria Corrego Michele Che diceva Non sapevo No Non ci deve essere Un'introduzione C'è un'introduzione Che è un editore Che è molto vicino Alle nostre tematiche Alle nostre sensibilità Ci ha dato questa possibilità La iniziamo a sfruttare Ma è solo l'inizio Ne arriveranno delle altre E arriverà qualche cosa Che sono sicuro Che vi strapperà Un pezzo di cuore Ci vorrà ancora un po' Perché ci dobbiamo lavorare Ma state con i canali aperti Intanto addocchiate Questa collana digitalia E se vi fa piacere Cercate Game GPT Su Amazon Su internet Dove volete O nella vostra Libreria fisica Perché ne vale la pena E magari Credo di averne a disposizione Un paio di copie Da regalare La settimana prossima Vediamo come Regalare Due copie di Game GPT A qualche ascoltatore Gaming I più giocati Hanno oltre sei anni I numeri spiegano La crisi del gaming Sì è un po' L'effetto Che si vede Anche Nell'intrattenimento In generale Soprattutto Nei cinema Quando si parla Se ascoltiamo Making movies Quindi i videogiochi Che facciamo Sono Pac-Man E Arkanoid Questo è il punto E dall'insuccesso Della Mejude Di qualche Mese fa Però I più giovani E più aggiornati In realtà Si saranno Sicuramente accorti Beh Dio Probabilmente Non avendo visto Le generazioni Percenti Non lo so Però comunque Ci sono Dei titoli Che nella storia Dei videogiochi Sono abbastanza Un unicum Perché ok Final Fantasy Si ha 15 16 17 Final Fantasy Tutti molto diversi Tra di loro Ma GTA 5 Che va avanti A macinare Miliardi Oramai Da Più di Quasi dieci anni No Più di dieci anni Più di dieci anni Direi Oramai ha fatto Tre salti Di generazioni È qualcosa È qualcosa Di unico Minecraft Roblox Esatto Non ci sono più I videogiochi Di una volta Fortnite Un altro di quelli Che è sempre Io credo che ci sia Io credo che ci sia Una spiegazione Semplice Intanto Questa descrizione È generica E se andiamo a vedere Poi ci sono le eccezioni Però È un'osservazione Corretta I big Sono Hanno Qualche anno Credo che Un fattore Distorcente Enorme Di questo fenomeno Sia Piccola cosa Stata la pandemia La pandemia Ha Da una parte Rallentato Se non bloccato Per due anni Tutto E Su Prodotti Di sviluppo Veloce Oggi abbiamo Certamente Superato In gran parte Anche se non del tutto I rallentamenti Dovuti al fatto Che per due anni Siamo stati a grattarci L'ombelico Invece che a lavorare Ma Su prodotti Che hanno Cicli di Lavorazione Di anni Come I videogiochi E i film Peraltro Le serie televisive Perché potremmo Fare lo stesso discorso Per i film In serie televisive Certamente Nell'immediato Dopo pandemia Abbiamo avuto Un rallentamento Enorme Delle uscite Di roba Di alto valore Che continuano Ancora oggi Nel dopo pandemia Abbiamo avuto Anche la contrazione Dei prestiti Con l'aumento Dei tassi Di interesse E anche quello Non può aver Influito Inoltre La stessa pandemia Durante la pandemia Siccome siamo stati due anni A grattarci L'ombelico Abbiamo videogiocato Tantissimo E questo ha dato Un boost enorme In termini di Affezionamento Chiamiamolo In termini di Gradimento E di fidelizzazione Ai giochi Big Che esistevano Allora Per cui Salutiamo Verdans Che sarei sempre Nel nostro Certamente Call of Duty Fortnite Eccetera Hanno avuto Un boost tale In quel periodo Che hanno costruito Avevano già Uno zoccolo duro Enorme Ma l'hanno consolidato E quindi Visto che A questi giochi Online Open World Eccetera Non puoi giocarne 15 contemporaneamente Perché per giocare A livelli discreti Devi dedicarci Del serio tempo Fondamentalmente Se ne sceglie uno E si gioca a quello Chi gioca Già a Fortnite O Con anche Con anche meccanismi Di consolidamento Di tipo Di gruppo La mia classe I miei amici I miei colleghi Di Digitalia I miei ascoltatori Di Digitalia Giochiamo tutti A Call of Duty E' difficile Che vada a provare Il gioco nuovo E quindi Queste tre cose Secondo me Hanno 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 causato Questo Questo rallentamento Che osserviamo Confermando il discorso Pandemia Ma in realtà Era un qualcosa Anche prima Sono Questi giochi qua Sono anche Probabilmente Stati fra i primi In un certo senso A creare una community Molto forte Che va oltre Il puro gioco Cioè se pensiamo A Fortnite Minecraft Warzone Sono giochi in cui L'interazione Tra le persone Il creare la squadra Perché sono i primi Che hanno una componente Una componente online Larga Ben funzionante Certo I famosi Metaverso Non quelli di Zuckerberg Esatto Per cui anche lì Il fatto di avere Investito Tempo Abilità Ma anche amicizie Creato Reti Su universi Di queste dimensioni Poi Fortnite Adesso da gioco È una piattaforma Su cui ci sono un sacco Di altri giochi dentro Quelli della Lego Insomma Sono tutte cose Che sono cresciute E limitarci a definire Come giochi È veramente riduttivo È anche per quello Che è difficile uscirne Un po' come Facebook Una volta che sei lì dentro È difficile Andarsene veramente Perché Ti crea delle Sì Ti crea dell'esternalità Delle esternalità Di rete E un po' Un po' Dei wallet garden Anche quello Io onestamente Non sono Non credo tanto Nell'impatto Della pandemia Se non Quella di aver Accelerato Un Qualcosa Che si stava Già sviluppando Tant'è che quasi Tutti i titoli Erano Più o meno Gli stessi Del pre-pandemia Può essere servito Sicuramente A consolidare Una situazione A portare un po' Di fiero in cascina A livello Di profitti A queste aziende Quello senza Senza dubbio Secondo me Apporta Una cosa Principale Allora Oggi Secondo me Penso Che numericamente Si facciano Moltissimi più Videogiochi Rispetto a Dieci Quindici anni fa Esattamente Lo stesso discorso Della musica Esattamente Lo stesso discorso Dei film Si sono abbassate Le barriere All'ingresso Per la creazione Di un contenuto E alcuni di questi Diventano Anche indipendenti E diventano Poi anche Virali E di successo Tu fai sempre Un po' Il difensore Del mondo Sotterraneo Dell'underground E mi piace Questa cosa Io sono d'accordo Con te E ci manca Però qui Si fa un discorso Globale Si fa un discorso Di giochi AAA Si fa un discorso Di blockbuster E rialivo al punto C'è una questione Di settore Dell'industria Dei videogiochi Che si è andata Consolidando A quei 3 4 player E come sappiamo Nel mondo Della tecnologia Ma non solo In tanti mondi Dell'economia Nel momento in cui C'è un consolidamento Perché le aziende Iniziano a comprarsi Tra di loro I grandi diventano Sempre più grandi Sono sempre poi Più avversi al rischio E quindi Come succede Per la Disney Che alla fine Investe 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 Negli Avengers Finché poi La gente A un certo punto Si scoccia Si scoccia Degli Avengers Quindi poi Si arriva Ai problemi Che oggi Disney Il triple A Probabilmente I due fattori Coesistono Sicuramente La prova del 9 Sarà Se usciranno Ancora Dei giochi AAA Che diventeranno Dei blockbuster E diventeranno Delle cose Perché se prevale L'effetto Del consolidamento Siamo destinati A giocare A forza A EA Soccer E a Call of Duty Nei prossimi cent'anni Ma dipende Se vuoi un gioco Dove ci sono tutti I tuoi amici Allora O i tuoi amichetti Allora Probabilmente Probabilmente Si Ma io spero Di no Che a un certo punto Qualcuno Ma no Ti dico Cosa può succedere Non cosa Cosa succeda Però se vuoi cercarti Il gioco Che piace a te C'è C'è il famoso Vampire Hunters Che poi Fai I numeroni I milioni I numeroni Secondo me Ci sarà sempre di più Un tentativo Di creare Delle piattaforme Di gioco Come appunto Minecraft Roblox O Fortnite Nelle quali Grandi titoli Che adesso sono Tripla Quadrupla Diventeranno Marketplace Proprio per legare A un singolo Una singola icona Sulla console Sul computer Poi un'esperienza Costante Sto pensando Ad Assassin's Creed Che sta diventando Anche lì Un mondo Non più Una serie di giochi Ma pare uscirà Prima o poi Questa Però è triste Questa visione Esatto Perché è ancora È un quintupla Addirittura Cioè diventa una cosa Talmente grosso Poi Nel quale Diventa Però Se è veramente così È possibile Michele fa il paragone Con la musica E nella musica Sta andando Veramente così Esatto Però Però è triste Nel senso che Vuol dire Che la creatività Sarà relegata A Produzioni Di minor Con minor accesso A denaro Ai finanziamenti E che quindi Sì ci saranno Delle chicche Delle robe geniali Delle robe di creatività Eccetera Ma non ci saranno Dei giochi Quintupla Con la creatività E la freschezza Che siamo stati abituati A vedere Negli ultimi 15 anni È come dire Non conviene più I Pink Floyd Erano I Pink Floyd Erano Creatività Portata ai mille Con i miliardi Di investimento Delle major discografiche Che ci mettevano i soldi Eccetera Oggi I miliardi Si mettono su Commesse sicure Come dice Michele Per via del consolidamento Per via del minimizzare I rischi Eccetera E quindi La grande Creatività La vedi Nell'underground La vedi su Autori che hanno Delle tirature Di poche decine Di migliaia di copie E quindi Non esisteranno Dei nuovi Pink Floyd Chi lo sa Io spero Di sì Però certamente Se la vedi come Michele Le prospettive Non sono molto rose Ecco Come dire Per Franco Solerio E per me Dei nuovi Pink Floyd Sono In Sono Sono Impossibili Perché poi Non si può Andare a cercare I Pink Floyd Cioè Si dovrebbero andare A cercare I Pink Floyd In generi O in Esatto Cos'è In categorie Che oggi Non parlano Il nostro linguaggio Esatto Cosa vuol dire Pink Floyd È proprio questo Il discorso Cioè Kendrick Lamar Di cosa si faccia Gli album più belli Degli ultimi dieci anni E a me non mi piace Non capisco il linguaggio Non capisco i testi Ok Ho sbagliato A ributtare Ho sbagliato A ributtarla In musica Seguendo la tua Metafora No Però probabilmente Vedremo dei nuovi Vedremo dei nuovi Vedremo dei nuovi Videogiochi AAA Che daranno L'inizio a delle saghe Nuove Fresche E che dureranno E che dureranno altri Cinque capitoli Quindici anni Come abbiamo visto Saremo a lamentare Sì Tra vent'anni Ne vedremo delle nuove Allora tutto questo Non vale Cioè tra vent'anni Saremo ancora a giocare A Call of Duty 37 Oppure ci sarà Un nuovo Call of Duty Che non si chiamerà Call of Duty Che nasce da zero E che ci farà Lo stesso effetto Oppure è finito Il tempo Secondo me buona parte Saremo su Call of Duty 37 Final Fantasy 106 E eccetera Ah Grand Theft Auto 6 Perché ne esce Uno ogni vent'anni Esatto Porca vacca Quanto ce lo fanno E intanto un sacco di giochini indie Uno più carino dell'altro E Fallout quanto? Ma anche lì secondo me Non è che ne abbiano fatti tanti Si inizia a parlare di un Fallout 5 Ma perché Adesso c'era Qualche soldino in cascina C'è la serie tv Che sta facendo il botto Sarebbe veramente scemo Non mettersi a E che appunto Di nuovo Se si mettono a svilupparlo adesso Prima di 3-4 anni Non esce Con i crismi Dei giochi Triple A A cui siamo abituati L'avete vista La serie Le prime puntate No Non ho iniziato a vedere Le prime puntate Siete Falloutology Prima di tutto Ancora me Ah sì Ma come facciamo Puoi prenderti il quarto d'ora di pausa Se devi andare a fare Azioni personali Sì io Non tantissimo Nel senso che Ne ho sperimentati recentemente Prima di sapere della serie In realtà Quindi non così recentemente Avevo giocato a Fallout 4 Che però Ho capito Che non è forse Il titolo migliore Me lo sono trovato nel Game Pass Questo è il motivo Però mi ha Incuriosito molto Però chiedo a te Che invece so che Sei un Falloutista Delle prime ore E quale Io solo Delle prime ore Fondamentalmente Nel senso che Io ho giocato I Fallout Quelli Prima maniera Quelli in visione Isometrica RPG Che sono Fanno parte della storia Del gaming Da quel punto di vista Lì per me Ai tempi Amiga Ai primi tempi Del gaming su PC Esistono poche robe Cioè Fallout Un amico Girano sul migliore Non sai che Non ho mai Amiga Non ci giurerei Che no Un po' complessi Forse da giocare Con un'interfaccia Come quelli del mio Anche se Anche se Fallout In realtà Ci si può Ci si può Fallout Fallout è stato È stato uno Dei primi giochi A creare una saga Perché ha creato Un universo Una cosa Una cosa che andava Al di là Di un Del videogioco Aveva Uno stile Tutto Talmente caratteristico Talmente personale Talmente particolare Mescolando Da una parte Atmosfere Retro Retro Dall'altra Atmosfere Di fantascienza E ancora La tragedia Dell'apocalisse Nucleare Insieme a Un certo tipo Di ironia E di humor Insieme L'ambientazione È un futuro Nel quale però Siamo rimasti Agli anni 50 Americani Per certe cose Dagli anni 50 Americani Però negli anni 50 Avevano già L'Apple Watch Solo che era enorme Perché non esistevano I transistor C'erano ancora solo Le valvole Se non mi sbaglio Sì Non so se nel Peep Boy C'erano le valvole O meno Non saprei dirti Però E se avete visto Silo La serie tv Che è uscita L'anno scorso Su Apple TV Che anche quella Ha avuto un successo enorme Silo è molto Ispirata Anche se poi L'atmosfera È molto più seria E perde tutta la parte Abbia letto Douglas Adams Gli viene in mente Quella scena Di oh no Ancora È una roba È una roba Ho visto le prime Due puntate Della serie E devo dire Che rispettano Molto bene Quel tipo di atmosfera Con rivisitazioni Moderne Con le solite Puttanate Che per forza Il personaggio Non può più essere Un uomo Ma è una donna Ma va benissimo Ci sta benissimo Nella storia È una scritta bene E ci sta C'è un cast Serio Bello Mica male E speriamo Se questo Rivitalizza un po' L'attenzione Anche su Un certo tipo Di videogame È tanto meglio Diciamo che Su GOG Ad esempio Ci sono Costano anche poco I vecchi Quindi Oggi è difficile Giocare a Fallout 1 Abituarsi Riabituarsi A quel tipo di grafica A quel tipo di controller Di interfaccia Non è Non è proprio Forse è proprio Quello il controller Più che la grafica Perché la grafica Secondo me ci può stare Una pixel art La chiami Diventa retro Certe scelte Di gioco Di game design Magari un po' Più difficili Rispetto ai giochi Di oggi Però sono Ricordi meravigliosi Ci aspettiamo La serie di Syndicate A questo punto O su Defender of the crown Mamma mia Syndicate È bello Sempre Nell'isometrico Così bello È vero È vero È vero È vero È anche Siri Che vuole anche dire La sua sulla metrica Che dice Una struttura ritmica E poi non saprei dirvi cosa Direi che è ora Dei gingili del giorno Signore e signori Il gingili del giorno Gingili del giorno I regali dei digitaliani Per i digitaliani Le voci digitali a sfine Trasmissione Chiudono sempre così Consigliandovi hardware Software Letteratura Delle piccole chicche Qualche cosa che abbia colpito La loro curiosità Qualche volta Stravolta la loro esistenza Ovviamente Qualsiasi sfumatura Del mezzo È ben accetta Chi facciamo cominciare Facciamo cominciare Francesco Dai Ma con grandissimo piacere Allora io porto Un gingillo Che è per Tutti coloro Che si dilettano A self-postare Magari addirittura Con un bel docker Che sarebbe la morte sua Si chiama Homepage Molto semplice Homepage Detta Gethomepage Homepage Fondamentalmente È un'applicazione Da self-postare Che permette di creare Una homepage Come dice il nome Per tutti i propri servizi Che sia o stato In realtà si può collegare Anche a una serie di altri In particolare È molto semplice Da configurare Se si usa docker Addirittura Si possono mettere Dei meccanismi Di scoperta In automatico Di quello che c'è Quindi se avete Il vostro sonar Il vostro radar C'è poi Per caricare ISO Linux Sempre Per Esatto Un'area tipico Per ISO Linux Ho detto una R sola Tanto videogame nuovi Non escono da guardare Seria Anche cosa Bene E ha inoltre Tutta una serie Di widget Che si possono Anche collegare Magari per dire Quante cose Sono in coda Quante cose Stanno funzionando Certe informazioni Di qui e di là Molto carina Se non vi ricordate Di ogni servizio Che porta L'avete collegato Eccetera Questo può essere Un buon modo Per averne solo una Homepage Per la pompa di casa Perlomeno come la uso io Grazie I self-hostatori Ringrazieranno Michele è uno di questi Lo conoscevi già Homepage Si si È un grande classicone Soprattutto nel momento In cui non ti ricordi Neanche più Cosa hai self-hostato E quindi ti serve Necessariamente Per ricordarti Tutti i vari Docker container Docker container LS Non basta più PS A PS Ti può vedere Certo Docker PS Va bene Immagino sia Il mio turno È la tua volta Ok Allora Il mio invece È un'applicazione Che se volete Per camminatori Compulsivi Streetcomplete Punto app Allora Io nelle ultime Due o tre Vacanze O gite Ho scoperto L'incredibile potenza Di OpenStreetMap E in particolare Di alcuni client Io ho sempre Gestito le mie vacanze Su MyMaps Di Google Maps Quello che Il pezzettino Che ti permette Di creare Le mappe personalizzate Delle cose Che vuoi vedere Fare i percorsi E così via Ma OpenStreetMap È Non Un livello sopra Dieci livelli sopra In quanto a cose Che è possibile È possibile fare Uno dei problemi Però di OpenStreetMap Perché soprattutto Quando si parla Di luoghi Meno affollati E popolati Quando si parla Poi di Attività commerciali È sicuramente Meno aggiornato E meno fornito Di Google StreetMap Quindi Diciamo che Non tutti i ristoranti Veri becca Se volete però Contribuire A OpenStreetMap C'è questa applicazione Che si chiama StreetComplete Che fa un po' La Da Con un sistema Di gamification Voi l'aprite Vi fa vedere La mappa Dove siete Di dove siete In quel momento E vi dà la possibilità Di contribuire In maniera Molto Molto semplice Quindi da Come se fosse una specie Di quest L'incrocio Sotto casa Di completare Le informazioni Di OpenStreetMap Mancanti Di confermare Quelle che magari Non sono aggiornatissime E quindi Manca il nome Del locale A civico Di fianco Casa vostra Potete inserirlo In maniera Molto semplice Una volta che avete Inserito il nome Magari vi dà Un'altra quest Tra virgolette Inserisci gli orari Quanto è larga La strada Ci sono le strisce Pedonali Ci sono Lo schienale Delle panchine Non so perché Mi chiede anche Lo schienale Delle panchine Comunque È un modo Molto molto bello Di contribuire A un progetto Molto molto importante Che permette anche Di erodere Un po' Di importanza Di servizi Che diamo Per scontati Ma che Non fanno Bene Alla competizione Erodiamo Assolutamente Il più possibile Peccato che non c'è Per IOS È solo per Android E facci sapere Michele Nei prossimi Gingilli Che altro consigli Basato Su OpenStreetMap Eh certo Assolutamente Inizia la saga E se all'ascolto Avete qualche Corrispondente Per IOS Che si appoggi Su OpenStreetMap E faccia delle cose Del genere Segnalacelo Sullo Slack Sullo Slack C'è un canale Gingilli Dove raccogliamo Tanti suggerimenti Devo dire Devo dire che spesso Utilizzo quello Per ispirarmi Per i gingilli Della puntata Il mio gingillo Per oggi È Ogni Wallpaper Di default Di macOS Girato Convertito In risoluzione A 6K Sapete che Una delle cose Su cui Apple Quando ancora Ma devo dire Che c'è ancora Una sezione Una parte Dell'azienda Che ci tiene Stavo per dire Quando ancora Ci teneva MacOS Come il suo Fiore all'occhiello Era proprio La presentazione Del sistema Fino dalla Dalla pubblicità Fino dalla 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 foto Sulle scatole Dei computer E Che cos'è Che risalta di più Nei computer moderni Con la GUI È Il wallpaper Lo sfondo Della nostra scrivania E MacOS Ha sempre avuto Degli sfondi Devo dire Di altissimo livello Eccezionali Vari E cambiati Seguendo una filosofia Un tema Nel tempo Ma Rammodernandosi Ed è una delle cose Che mancano tanto Il giorno d'oggi Specialmente Quelli del passato Oggi Se vuoi utilizzare Su Mac Lo sfondo Di panter O di tiger Devi andare A recuperare Ma sono ancora Con la risoluzione Degli schermi Del tempo Pre retina Schermi minuscoli Eccetera Ebbene Qui Su 512 Pixels Hanno pubblicato Sponsorizzati Da Rogamiba Hanno rirenderizzato Ricostruito Gli stessi wallpaper Della storia di macOS Dal primo Da quello di cita MacOS 10.0 Fino a quelli più nuovi Tutti i wallpaper Di default Di macOS Ma appunto Ridisegnati Con una risoluzione A 6k Per cui potete Scaricarveli Utilizzarveli Sul Mac Su Windows Dove volete Rivivere E riavere Gli stessi Sfondi Del passato Insieme a tutti gli altri Gingini del giorno Dove lo trovate Sulla pagina Di questa puntata Su Digitalia.fm Slash 720 E allora Prima dei saluti finali Le raccomandazioni Time, talent and treasure Tempo, talento Denaro Tesoro Potete darci una mano Ve l'abbiamo detto prima Come produttori esecutivi Decidete voi Quanto vale Digitalia per voi Potete darci una mano Fattivamente Col vostro tempo Con il vostro talento Potete scrivere una Recensione Banale o assolutamente Poetica Su qualsiasi sistema Di promozione Dei podcast Quello di Apple È il principale Ma va bene tutti Potete fare pubblicità Digitalia sui social Dove volete Potete fare Digitalia sul social Più importante Cioè la vita reale Parlandone Con le vostre amiche I vostri amici Ogni ascoltatore in più Ogni orecchietta fresca In più guadagnata È un digitaliano in più Che fa parte Della nostra squadra E dà una mano A tutto il movimento Direi che per questa 720 È tutto Un saluto Dall'emistudio di Liguria 1 Di Sanremo Un saluto da Franco Solerio Dallo studio di Milano Isola Un ciao da Michele Di Maio E un ciao anche Dallo studio di Milano Città Studi Da Francesco Facconi Ci sentiamo la settimana prossima Con una nuova puntata Di Digitalia Un saluto da ActiveRose Grazie a tutti.